Musica E ciao a tutti sono Isaac29695 Forse è meglio se dirò... Se dirò, oddio, se dico Ciao a tutti sono Isaac E... ma si suona meglio Ciao a tutti sono Isaac No aspetta così è troppo alla Ultralem Quindi... Ciao a tutti... No aspetta Test del saluto in diretta Vediamo Ma si dai andiamo avanti Chi se ne frega Shalala Ok Non... non... Mi sono fidato del mio istinto Kulawardiano Kvindy Kvindy Credo che dovrò Saltare lì Ok Buonanotte Epic fail Però il bonus ce l'abbiamo Ce l'avevamo Cioè Ora non più Ehm Ok Andiamo avanti Dai 1, 2, 3 1, 2, 3 E di qua Credo che debba andare di qua Aha Ok Quindi per prendere il diamante rosso è una cosa un po' più difficile Va bene Olè Perfetto No cos'è sta roba? Non l'ho vista Ok Quindi tu... Ah ah no no Via 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 Ah è peggio di un... Ah che cos'è? Che cos'è? No! Mi ucciderà Mi ucciderà Ok Cos'è? Sembrano quei Pokémon Di Pokémon Ok no Ah si tratta... Ok Vabbè ma è roba facile scusa eh Elementare Watson Elementare Elementare intanto sono morto Eh già No Ok Andiamo di qua Ah quindi vanno soltanto ad essere a sinistra facendo un rumore un po' strano Comunque Non l'ho detto nell'episodio precedente ma dovevo dirlo Sto registrando con Dictory Quindi potrete sentire l'audio normale e non sballatissimo come tempo fa Che sentivate E che dire ancora? Forse sì L'ho già detto nel video precedente Metterò i video in una qualità migliore rispetto al 240 solito Dei miei let's play Perché ovviamente lo ripeto Io ho la connessione peggiore d'Italia In upload E intanto però Sono riuscito a finire sto bonus No Va bene Ok Eeeh Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? No il diamante lo prendo dopo Pratica dovrei fare così Ma dove sono andati a finire tutti quei Tutti quei cari e vecchi cubi scomparenti No aspetta qui Qui c'è qualcosa che non cubica Quindi ecco qua Perfetto No Eeeh Sì ho fatto un bel giretto Credo che sia stato molto Divertente E adesso credo di essere morto Sì Purtroppo mi pare di sì O no Aspetta Eeeh Bug su sto gioco Riesco a guardare dentro un cubo Oh mio dio Eeeh Sì credo di essere morto Proviamo dai Nyeh Ok sono morto Ok Ah di qua c'è qualcosa di Mi pare inutile Vediamo Riproviamo Mmm Ah Eeeh No Mmm Non è facile Devo ammetterlo Finora io sono arrivato a sto punto Che posso arrivare al centro Con Una chiave Però qui torno al punto di partenza Se non sbaglio Sì Ah no aspetta Posso fare così E da qui però Non so più come andare avanti Cioè perché Se va Eeeh Ma 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 Oh no Posso fare così Eeeh No Se no dopo torno al Ah ci sono Ci sono un sacco di clessidre Che io sogno Venite da me clessidre Per favore Ok no Ehm Ma 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 Vediamo No Sto tiktok Mi da fastidio Mi fa Venire voglia di suicidarmi Ma e niente Non ci sono riuscito Ehm Non è Non è facile Veramente E siamo soltanto All'ottantesimo livello Sarà Sì Su 120 100 140 Mi pare Perché Ero a metà Ehm Aspetta Ma Se faccio Lascio Ah no no Vabbè Proviamo così Cos'è Ah Sì Giusto Devo fare così Girati così Mi pare Ok E qua ce la fa Ok Fin qui ci sono arrivato Ci è arrivato anche un idiota come Isa Ma no Ma Ma qui così Non facevano avanti e indietro In un cubetto soltanto Porca miseria Avanti dai Andando avanti di questo passo Troverete Un Una parte per un livello soltanto Alla fine Non sarà molto bello No Ok Epic fail Vabbè Una chiave è nostra Ah ma ci sono tre chiavi Porca E anche Cosa è successo? Ah perfetto Grazie Ehm No Devo fare il giro Mi porro Ok Eh sì Ehm Ah devo fare il giro Adesso sì E devo andare a prendere Una clessidra Il prima possibile No Cosa Cosa Oh Fermati qua Allora Ok ci siamo Dunque Come avevo fatto Ad andare di là Mi pare di aver usato Un trucchetto Dei cinesi qua Di qua Di qua Che si trattava di fare Un coso così Un coso colà Adesso aspetta Da che parte devo girarmi Di là Di qua Dunque Di qua Avanti E poi là Perfetto Speriamo di non morire qua Poi Mi sorge un dubbio Come farò ad andare di là Dovrò fare la stessa cosa di prima Ok Ora evito di salire qua Ok Facile No Ok No Che caspita è successo Oh mio dio Mi sa che tra un po' Dovrò anche stoppare Il video Senza neanche aver fatto Un livello No aspetta Un livello non ho fatto Vabbè ok Sarò ultra concentrato Ma la mia memoria Fa cagare Dunque Di qua Ok Chiave Inglese E No Cosa 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 è successo Ok Facciamo così Guarda Ah ma ci sono due lati Allora è facile Allora è facile In verità non cambia niente Quindi Ok Girati Ok Ce l'ho fatta Avanti Dai Ok Avanti Ok Dunque posso anche fare così Sì Ok Ora manca una chiave soltanto Ah ma qui Così mi seguono Bakuki E ora per tornare Lì come faccio Oh mio dio Sarà difficile Questo Come faccio Chiedo l'aiuto da casa Porca miseria Come si fa Allora E Qua Ah devo lasciarne una Ai 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 Aspetta vediamo se trovo un altro Modo Sì qua è la stessa cosa No Ma vaffan bro Giuro che Odio La meccanica Le meccaniche di sto gioco Aspetta Che qui magari rischio di fare di nuovo l'errore Che ho fatto prima Infatti l'ho fatto Dunque devo prendere per forza qualche pillola Una bella Ok Dunque Di qua Beh così Almeno Ok Così vado meglio nel girarmi Mentre cado Ehi Ok Dai Avanti Ok Qui quasi seguono A quanto pare Ok Dai Aspetta ma perché sto facendo tutto questo Se so che sbaglio alla fine Boh Ok Dunque Dobbiamo Andare qua E ora E ora Arriva Il Gran Finale Vediamo Di qua Prima però c'ero riuscito Se non sbaglio In uno dei tanti tentativi Ah no Basta fare così Dai 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 Ok Perfetto E ora Così No Ah sì Così Oh mio dio Ma ho preso la clessidra Non me lo ricordo Porca miseria Dai Sbrigati Isaac Sbrigati Dai 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 Tutte tra le chiavi Perfetto No io Io non rischio Adesso perché sto livello È impossibile Prendo sto diamantino Bello E andiamo avanti Via Well done Abbiamo finito Questa parte Di Cool world Ci lasciamo In una mini arena Contro un Un tizio di windows 98 O anche 95 E ci vediamo alla prossima Ciao e alla prossima